Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a vedere in particolare come creare una montatura e farla al meglio Dunque per questa serie di video mi raccomando lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Dunque via con la sigla! Per la creazione della nostra montatura di cosa avremo bisogno? Di una scaletta, questa chiamata scaletta, valgilenza, non so come si chiama Magari viene chiamata in un altro modo Un galleggiante, in questo caso utilizzerò questo da 1,50 grammi Una serie di piombi, in questo caso dal 13 al numero 3 Dopo ne ho altri qua anche così, sparsi Un filo, in questo caso abbiamo un florine dello 0,14 anche se ci vorrebbe però uno 0,12 Pinze o forbici, quello che volete Là abbiamo anche la camera secondaria, oh my god, 62 mm di apertura Così state vedendo anche tutto quello che c'è qua sotto Partiamo, allora Ah intanto partiamo a dire due cose sul galleggiante Allora se avete visto il video della scorsa volta dove spiego un attimo i galleggianti Bene, se no andatelo a rivedere che è un discorso abbastanza importante Allora vedo che molti vanno a tarare il galleggiante o sulla lineetta rossa in modo che si veda solo il nero O un po' prima Il galleggiante va tarato minimo all'inizio della stina Se non tipo a metà stina quindi qua o a tre quarti quindi qua Questo perché si ha il massimo della sensibilità e così è giusto In questo modo che l'acqua arrivi in questo modo al galleggiante è giusto Quindi se stara che il galleggiante va su quindi fa questo movimento qua Oppure se va giù e in questo modo è il modo perfetto per vederlo In genere quindi si tara proprio qua che l'acqua stia a filo tra il nero e il rosso In questo caso rosso Dopo può essere nera, gialla Io in genere monto tre o quattro gommini Che servono a tenere il filo sul galleggiante diciamo Meglio di un buon silicone in modo che non andate neanche a rovinare il galleggiante Si prende la scaletta e si avvolge la lenza Quanto si avvolge? Allora per esempio questa è una 25 cm Vediamo un attimo se trovo la scritta qua Da qui a qui sono 25 cm Se facciamo conto che la mia punta è una 5 metri Saranno tot giri Se la vostra canna rubasienne è lunga 3 metri Dovete fare tot giri Quindi con questa potete già prepararvi dall'inizio pronta Meglio fare un giro due in più che uno due in meno Devo fare 20 giri Prendiamo il nostro filo Facciamo una piccola asola L'asola la doppio Prendo due fili Giro attorno al ditto Prendo la punta dell'asola Faccio passare dentro Fino ad arrivare a questo punto qua Vedete c'ho l'asola Chiudo Ecco il nodo Andrebbe bagnato Questo non sarà il nodo di chiusura Vedete così ho la mia asola bella forte Ci vorrebbe 1,012 su 1,50 Ma vabbè Allora Iniziamo ad avvolgere 1,2,3,4,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5 E la bobina non ci serve più per ora, anche non volessimo fare un'altra stecca di filo. Adesso cosa bisogna fare? Dato che la montatura è al contrario, prendiamo la fine del filo e ci facciamo passare il galleggiante. Questo sarebbe, questo praticamente, questa è la fine, vediamo un attimo, questa è la fine. Questo sarebbe il filo che esce dal mulinello praticamente o dall'anello della canna. Allora, facciamo passare quindi il filo, in questo caso nel buco passante che ha. Ed ecco qua. Facciamo passare un po' il filo. Uno. In questo caso possiamo già chiudere con l'asola, dato che non dobbiamo far passare piombe scorrevoli. Come ho detto in precedenza, tengo un'asola abbastanza grande perché mi è avuta cambiare il terminale più velocemente. Togliamo l'eccedenza. Facciamo scorrere un po' di filo e mettiamo i gommini sul galleggiante. Prendiamo il tuvettino. Uno lo supporto avvicinando al foro di uscita. Un altro in genere lo si mette in mezzo, giustamente, per distribuire. E l'ultimo lo si mette alla fine. Ecco qua. Dopo aver passato il filo andiamo a riprendere la zona dell'asola. Quindi andiamo a mettere il primo pallino. Per un 1,50 direi che il primo pallino si potrebbe utilizzare un 9. Questa è la piombatura che voglio fare, che mi serve. Quindi andiamo a prendere un pallino del numero 9. Adesso lo lascio vedere anche meglio. Guardate quanto è piccolo. Ok. Io in genere utilizzo questo metodo, no? Scherzavo, devo lasciare. Prendo il filo, vedete l'asola. Vado a trovare l'intagliatura del piombo. Eccola qua. Vedete, è messo dentro. Portato all'asola, vado a stringerla. Ecco qua. Asola e primo pallino. Dopo andiamo a prendere un pallino numero 8. E a una distanza di circa 10 centimetri andiamo a posizionarlo. Questa voglio fare una pallinata abbastanza aperta, però con un bulk più pesante e il resto un po' più leggero. Quindi 10 centimetri andiamo a prendere e andiamo a chiudere. Ok. Non andiamo a stringere tantissimo. Ed ecco qua. Sono esattamente 10 centimetri. Un attimo, vado più indietro. Ecco, vedete, sono 10 centimetri. Adesso andiamo a prendere un pallino del numero 7. E lo posizioniamo a 8 centimetri. Si possono fare sia a distanze uguali, quindi 10, 10, 10. Quindi da questo a questo 10, da questo a questo 10. Se no, si possono andare a ridurre fino al bulk. Per questo tipo di montatura. In questo caso preferisco così. Poi andiamo a prendere uno del 6. E lo andiamo a mettere a 6 centimetri. Chiudiamo. Brava telecamera. Ok, chiuso. Adesso da questo. Come vedete, questi 4 pallini. Andiamo a prendere direttamente un pallino del numero 3. che è alla distanza di 4 centimetri dall'ultimo. Come vedete, è una lenza che scende molto piano. Adatta all'utilizzo dei bigattini. E mi ha dato molti successi per il suo target, ovvero la brem. Questa lenza è adatta per l'acqua molto lente. o ferme. E il suo trucco consiste nel muoverlo. Quindi far muovere il fondo. Quindi esca che si alza e si abbassa continuamente. Alzare la canna. Quindi farla venire su. E dopo mollarla. Quindi l'esca che scende pian piano così sul fondo. E si adagia lentamente. Questo è il trucco per questa lenza. Adesso vado a controllare i 4 centimetri. Perché ormai voglio fare una lenza perfetta. 4 centimetri perfetti a vista. Il bulk di pallini del 3. Ah e mi raccomando. I pallini li mettete sempre centrali. Presi bene. Se li mettete bene. Viene fuori anche dalla piombatura. In questo caso ci vorrebbe un tubo con l'acqua per provare. Ma io qua non ce l'ho. Quindi andate a riempire i pallini. Finché non arriva qua. E dopo quando il numero di pallini grossi. Di questi pallini grossi per esempio del 3. Troppo grande. Andate a riempire con pallini più piccoli. E questo deve essere il risultato. Bene per questo video era tutto. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando mettete mi piace. Condividete il video. E iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Mi raccomando non perdetevi il video di lunedì. Prossimamente altri video sulle montature. Per questo video è tutto. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.